Ti hanno rifilato un bel fondo o ETF obbligazionario quando i tassi erano a zero e adesso ce l'hai a meno 15% visto che i tassi sono saliti? E ti hanno detto, tranquillo, nel giro di una duration recupera ampiamente. Ma che cos'è questa duration? E soprattutto, sarà vero? Ho fatto i conti per te. I fondi e gli ETF obbligazionari vengono rifilati alla clientela retail soprattutto come uno strumento che tutela il capitale. Vengono infatti spesso collocati a persone che dicono Ah no, 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 io non voglio rischiare, non voglio rischiare, non voglio perderci niente. Purtroppo, comprare un fondo o un ETF obbligazionario non è come comprare un fondo o un ETF azionario che riflette quello che succede alle azioni che ha dentro. Un fondo o un ETF obbligazionario ha un comportamento che è differente dalle obbligazioni che contiene. Questo perché, mentre comprare un'obbligazione, solitamente un cliente retail la porta fino a scadenza, il fondo o l'ETF obbligazionario, l'obbligazione a un certo punto deve venderla e comunque l'obbligazione risente delle oscillazioni dei prezzi delle obbligazioni che sono pesantemente controintuitivi. Difatti, dipendono in maniera inversamente proporzionale all'andamento dei tassi. Se non ci hai capito niente, ho fatto tempo fa un video qui sugli ETF obbligazionari e perché ETF e fondi obbligazionari non sono un buon investimento per chi vuole tutelare il proprio capitale. Sono di fatto uno strumento per speculare sui tassi. Comunque, non preoccuparti, lo spiego anche in questo video, dove simulo un indice obbligazionario composto da un numero limitato di obbligazioni e ne vedo il comportamento paragonandolo a possedere quelle obbligazioni nel proprio portafoglio. Soprattutto la cosa più interessante sarà determinare quanto ci mette il fondo o l'ETF obbligazionario a recuperare le perdite. Spoiler, non le recupera più. Facciamo intanto una dovuta distinzione tra il fondo e l'ETF obbligazionario. Il fondo può investire più o meno in quello che vuole. Solitamente questa libertà non è sinonimo di maggior rendimento. Nella maggior parte dei casi questa libertà è sinonimo di maggiori commissioni e siccome i gestori del fondo non hanno la palla di cristallo, difficilmente riescono a spuntare condizioni di mercato migliori rispetto ad un investimento di tipo passivo. Tuttavia, un fondo obbligazionario, volendo, potrebbe tenere le obbligazioni che ha comprato fino a scadenza e quindi non subire l'effetto dei tassi. Resta però il fatto che il fondo obbligazionario è obbligato ad avere un prezzo che è quello di mercato. Quindi nel momento in cui tu esci, anche se il fondo obbligazionario non vende le obbligazioni ma le tiene fino a scadenza, tu esci al prezzo di mercato delle obbligazioni che ha in pancia in quel momento. Significa che dal momento che ne ha tantissime, per te è impossibile uscire nel momento in cui sono andate tutte a scadenza. Ne avrà sempre di nuove che non sono andate a scadenza. Quindi alla fine anche il fondo obbligazionario, che potrebbe evitarlo portando le obbligazioni a scadenza, subisce questo effetto di andamento dei tassi per quanto riguarda il cliente nel momento in cui vende. L'ETF obbligazionario lo subisce in misura ancora maggiore perché è costretto a seguire un indice. Qualcuno mi ha obietato, ma non può l'ETF portarsi qualche obbligazione a scadenza. L'ETF può farlo, ma in realtà quello che fa l'ETF non importa, è comunque costretto a darti quello che dice l'indice e l'indice ha dei criteri oggettivi per far entrare e far uscire le obbligazioni dall'indice. Quindi anche se il gestore dell'ETF si mettesse a tenere delle obbligazioni a scadenza sfruttando quel minimo di discrezionalità che può avere un gestore di un ETF a replica fisica oppure molta più discrezionalità nel caso di replica sintetica, tu di fatto quando investi in un ETF stai investendo nel suo indice, non stai investendo in quello che fa il gestore. Il gestore, quello che fa extra, sono soldi che lui ci guadagna o ci rimette per conto suo. Qui analizzeremo un comportamento completamente automatico che è il comportamento di un indice obbligazionario. Farò una marea di semplificazioni. Innanzitutto avrò soltanto una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette obbligazioni in portafoglio. Sento già i lamentosi che dicono «Eh, ma non è una vera simulazione!» Cicibelli, la fisica va avanti da 400 anni a suon di modellini piccoli e assurdi e funziona benissimo, molto meglio della finanza. Quindi sette obbligazioni ve le fate andare bene. C'è una famosa storiella su un'azienda che vuole fare delle previsioni sull'andamento delle gare di equitazione e incarica un fisico di studiare un modello per prevedere chi vincerà le gare di equitazione. Dopo un mese il fisico torna, presenta la sua relazione, esordisce dicendo «Supponiamo che i cavalli siano sferici». Ecco, quindi la fisica va avanti benissimo così, sette obbligazioni ve le fate andare bene. Vi assicuro che è la stessa identica cosa se ce ne sono settecento. Inoltre, come vedrete, le prenderemo scaglionate di sei mesi in modo da farvi mostrare proprio le uscite ogni sei mesi. Prenderò un ETF obbligazionario che ha una duration prevista tra i tre e i sette anni, vuol dire che può contenere obbligazioni tra i tre e i sette anni. In particolar modo, quando un'obbligazione arriverà a tre anni di duration, quindi gli mancano tre anni alla scadenza, la dovrà vendere e dovrà comprare un'obbligazione che è a sette anni di duration. Ovviamente utilizzeremo anche la semplificazione che tutte le obbligazioni che trattiamo hanno la stessa affidabilità e quindi se pagano una cedola pari ai tassi di mercato quotano esattamente 100 e toglieremo anche tutti gli eventuali effetti dei trader sulle obbligazioni che fanno oscillare questo 100 di un pochino in su, un pochino in giù. Utilizzerò, di fatti, la formula matematica precisa per calcolare il prezzo delle obbligazioni. Tranquilli, non ve la faccio neanche vedere perché è dentro direttamente Excel. Per questa simulazione, incredibilmente, non avevamo bisogno di Python. Non potremmo farla con Excel, quindi la capiranno tutti. Passiamo direttamente al foglio Excel. Non spaventatevi. Qui ho indicato le obbligazioni, le ho chiamate amichevolmente A, B, C, D, E, F, G, H. Qui ho indicato la loro data di scadenza. Oggi è il primo gennaio 2000, quindi torniamo indietro. Mi raccomando, uscite da tutto il mercato azionario perché sta per scoppiare la bolla delle dot com. I tassi, facciamo finta che sono al 3%. La liquidità dentro l'ETF obbligazionario o dentro l'indice è 0. L'indice possiede queste 7 obbligazioni. Scadenza 1, 7, 2003, quindi tra 6 mesi e scadenza 1, 7, 2006, quindi tra 6 anni e mezzo. Le obbligazioni quotano 100. Vedete che io ho utilizzato la formula di Excel, quindi non ho scritto io 100, ho scritto la formula di Excel che determina il prezzo di un'obbligazione in base ai tassi di mercato, alla cedola che paga, che giorno è oggi, quando scade, a quanto viene rimborsata a 100. La formula è completamente automatica. Il valore, quindi, del portafoglio dovrebbe essere 700. C'è qualche lievissimo arrotondamento dovuto al fatto che l'1 del 7 sono passati meno giorni rispetto al secondo semestre. Voi sapete che nel primo semestre c'è tipo un giorno in meno rispetto al secondo semestre, quindi Excel ne tiene conto e quindi questo non è esattamente 100 ma lievissimamente di meno e vedete che il valore è 699,96. Poco cambia. I tassi sono al 3%, questi sono i tassi di mercato, le obbligazioni rendono tutte il 3%, passiamo al luglio 2000. Non ho fatto succedere niente per farvi vedere cosa succede quando non succede niente. I tassi restano al 3%, ho qui appreso le cedole. Ecco qui come determino le cedole, ecco questo sum product, considero soltanto quelle che esistono, quindi quelle che hanno un valore qui. Lo moltiplico per C7, C1000, che sono le cedole che pagano, moltiplico per 100 e divido per 2. O, effettivamente, queste sarebbero obbligazioni che pagano cedole annuali, però per semplicità supponiamo che paghino cedole semestrali. Avrei potuto anche fare solo obbligazioni annuali, ma mi avreste rotto gli scatole dicendomi che venivano solo 3 obbligazioni o 4 obbligazioni. Ecco, così almeno con obbligazioni semestrali ne vengono almeno 7. Non costringetemi a fare una formula che fa sì che pagano le cedole solo quelle del semestre giusto perché si impazzisce. Ho preso metà cedola e basta. Ecco qui. Quindi si incassa tipo 10,50 euro di cedole. Il valore resta 100 perché i tassi non sono cambiati, quindi sempre 6,99. Il totale di soldi che ha l'ETF obbligazionario è 710,47. Io userò il termine ETF obbligazionario, talvolta fondo obbligazionario, intendo sempre invece indice perché l'indice è quello che l'ETF deve seguire. Qui mi sono permesso anche di segnare il guadagno rispetto al valore iniziale. A questo punto so già che i più pignoloni si lamenteranno. Eh, ma la liquidità va reinvestita. È vero. L'indice reinveste la liquidità nelle stesse obbligazioni. Concedetemi quest'altra semplificazione. La liquidità non la reinvesto. Vedrete che tra l'indice e possedere le obbligazioni direttamente chi ci rimette a non investire la liquidità è di più chi possiede le obbligazioni. Quindi alla fine è un vantaggio che do all'indice o all'ETF, ma è minimo perché onestamente entrambi possiedono una liquidità simile. C'è però a questo punto un problema. Siamo arrivati a luglio 2000 e questa obbligazione è arrivata al termine della duration, quindi è arrivata a tre anni di duration. Abbiamo detto che questo indice va dai 3 ai 7, quindi va venduta. Non c'è problema. L'indice vende questa obbligazione e ne compra un'altra che scade 1-1-2007. Quindi in realtà prima ho detto in esattezza compro obbligazioni a 6 anni e mezzo, non esattamente a 7. Se volete potete, il foglio Excel è a disposizione, potete rifarlo aggiungendo sempre un'obbligazione qua sotto a tutta la scaletta. State attenti a farlo giusto. Dato che questa costa 100 e questa costa 100 ovviamente non sto supponendo le commissioni anche perché l'indice obbligazionario non comprende le commissioni ma comprende delle altre commissioni poi l'ETF che vi fa pagare a voi, non sto supponendo nessuna commissione. Chiaramente vedete la liquidità resta la stessa, è cambiata leggerissimamente si vede che questa costava leggermente di meno di questa per questioni sempre di anni bisestili, un giorno, comunque 10-50, 10-51, sempre la stessa. Ok, questa è la situazione a luglio 2000. Adesso arriva gennaio 2001, tracollo, i tassi, il 31 dicembre la banca centrale annuncia che i tassi aumentano di due punti. Ok, ho fatto un aumento esagerato, i pignolazzi diranno eh, ma non aumentano i due punti. Tranquilli, dopo faremo anche altri aumenti se volete, oppure sempre il foglio Excel è a disposizione, scambiatevi i numeri e vedete cosa succede. Ho fatto un aumento di due punti per far vedere bene bene cosa succede. Cosa succede? La notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio aumento i due punti, il tasso di mercato arriva al 5%, ok, comunque si prendono le cedole, si prendono le cedole al 3, non al 5 ovviamente, ecco qui, quindi diventa 21,01, quindi prende sempre circa un 10,50 di cedola. Tutte le obbligazioni in pancia però calano di valore. Normale. A questo punto se qualcuno volesse vendere questo ETF obbligazionario si porterebbe a casa una perdita del 4,84%, semplicemente perché i tassi sono aumentati. Ok, anche il valore dell'ETF è calato da 700 euro a 645 euro. È un po' più alto di così perché ci sono comunque i 21 euro di cedole rispetto all'inizio, quindi per questo queste limitano la perdita. Attenzione però, perché a gennaio 2001 succede anche un altro evento. Questa obbligazione che scadenza gennaio 2004, manca entr'anni alla scadenza, quindi va venduta. E guardate qui cosa succede. Questo è l'effetto che danneggia le ETF obbligazionari. questa obbligazione deve essere venduta e viene venduta a 94,6%. E ne va comprata un'altra. Ne va comprata un'altra di tipo nuovo. Vedete, queste sono di tipo nuovo, questa ha la cedola al 5%, sono di tipo nuovo, che costa ovviamente 100. So che anche qui un'altra obiezione che potreste farmi è eh ma non è detto che debba comprare una di tipo nuovo, potrebbe comprare una di tipo vecchio con scadenza lunga. Tranquilli, faremo anche quell'esempio lì. Faremo anche quell'esempio lì. Comunque, vende questa a 94% e compra questa a 100%. Dove li prende i 5,4% che mancano? Li prende dalla liquidità. Per quel motivo non ho investito la liquidità perché sapevo che dopo mi sarebbe servita. E infatti, vedete, la liquidità scende da 21% a 15,60% perché è usata per comprare questa obbligazione qui. Ok? In realtà non fa esattamente così, ne compra semplicemente un po' di meno di quell'obbligazione ma, promettetemi, il foglio Excel non poteva essere più complicato di così. Già ritengo di aver perso un 30% dei telespettatori. Mai quantino persi col video sulla Tokenomics. Quindi questa è la situazione al momento. Il valore, vedete, il valore sale leggermente ma è calata la liquidità quindi il valore totale è uguale. È chiaro, siamo sempre al primo gennaio, non è che ha creato soldi dal nulla. Questo non è il mondo delle altcoin dove si stampano soldi da zero. Il valore è sempre quello. Ok? La perdita infatti è sempre del 484. Passano sei mesi tranquilli, i tassi non li faccio più cambiare ho fatto tanto un abbattimento dei tassi e basta. Adesso voglio vedere quanto ci mette l'ETF obbligazionario a recuperare. Passano i mesi arriva luglio 2021 i prezzi vedete sono leggermente cambiati perché sono leggermente cambiati i prezzi? Perché stanno avvicinandosi tutta la scadenza e quindi i prezzi tendono ad arrivare a 100. Infatti se l'ETF potesse venderle solo alla scadenza recupererebbe le perdite in una duration come dicono tutti ma non è così non è vero perché l'ETF non può venderle a scadenza a meno che non si tratti di un fondo in questo caso completamente libero però anche in questo caso difficile che le tenga tutte a scadenza e vedete sono tutte aumentate leggermente quindi il patrimonio del fondo è passato da 6,50 a 6,55 ha preso le cedole tra l'altro su questa ha preso più cedola ha preso 5 invece che il 3 quindi se io avessi preso qui un vecchio tipo che paga cedola 3 vero l'avrei pagata meno ma comunque avrebbe pagato cedola solo 3 quindi alla fine il conto è finanziariamente equivalente ecco qui la situazione però questa va venduta mancano 3 nella scadenza e va venduta a 94,6 e ne va comprata un'altra a 100 questo è il cosiddetto roll quindi si cambiano le obbligazioni quelle che hanno duration corta o quelle che hanno duration lunga ok va avanti così come vedete va avanti così va esattamente avanti così passano altri 6 mesi tutti i prezzi sono saliti leggermente tranne i 100 i prezzi si avvicinano più che salire si avvicinano al 100 quindi vedremo poi che nel caso opposto scendono perché se sono 102 diventa 101 1 e poi 100 si avvicina al 100 questa va venduta ne va comprata un'altra e avanti così tac 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 a un certo punto finalmente vado in positivo a luglio 2002 vado in positivo quindi sono andato in positivo molto prima di una duration di due duration come si dice però in realtà non è che mi interessa molto andare in positivo cioè io potevo anche mettermi sotto il materasso e stavo uguale potevo metterli in un contodeposito e ci guadagnavo di più la cosa che mi interessa è riuscire a battere invece chi le obbligazioni le ha tenute comunque io ho fatto tutta la bella simulazione che va avanti va avanti va avanti fino a gennaio 2007 e vedete che non solo vado in positivo ma il rendimento si alza si alza si alza comunque guardate che io a gennaio 2007 il rendimento ce l'ho a 3,19 e ok finalmente sono andato sopra il 3% che era il tasso iniziale ma scordatevelo di arrivare al 5% al 5% non ci arriverete mai mai perché adesso a questo punto supponendo che resti sempre al 5% il tasso io è vero che ho obbligazione che meno del 5% ma cioè ci arrivo per chi ha studiato matematica asintoticamente in tempo infinito ok quindi 3,19 vedete arrivo nel 2006 al 3,03 che è quello che mi sarei aspettato all'inizio perché all'inizio effettivamente rendevano bene il 3 eccolo qui e poi piano piano salgo 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 i tassi attualmente sono il 5 ok benissimo questo è quello che succede al fondo obbligazionario con il suo roll vediamo cosa succede agli investitori di obbligazioni in particolar modo cosa faremo faremo la stessa situazione di partenza identica stesso andamento dei tassi però le obbligazioni le tengo fino a scadenza e solo quando scadono compro obbligazioni nuove quindi anche l'investitore di obbligazioni comprerà obbligazioni nuove perché non è detto che voglia disinvestire proprio in quel momento anche a lui diamo la possibilità di comprare obbligazioni nuove e portarle avanti vediamo il foglio stessi identici numeri soltanto che vedete è dritta perché lui non disinveste quindi lui anche lui parte con tutto a 100 stessa situazione fino a luglio 2000 sono esattamente identici anche qui luglio 2000 gennaio 2001 anche chi ha le obbligazioni si trova il patrimonio che passa da 700 a 650 anche lui ha 21 euro di cedole anche lui incassa la perdita del 4 e 0 5 confrontiamo se è uguale no perché qui è 484 a qui è 484 perché già ha dovuto vendere la prima lui e quindi si trova un'obbligazione un po' più lunga ok comunque anche lui incassa perdite però lui se ne infisca delle perdite e le tiene 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 fa buy and hold tiene le obbligazioni vedete le tiene e cosa succede? guardate non cambia niente per lui lui non fa spostamenti vedete 95 95 96 97 98 tende al 100 a questo punto arriva a 100 siamo al primo luglio 2003 questa obbligazione scade non c'è verso lui non può più tenerla ok la vende a 100 eccola qui infatti non c'è più di qua e ne compra un'altra che scade il primo gennaio 2010 l'ha venduta a 100 l'ha comprata a 100 quindi la sua liquidità non è stata intaccata qui è leggerissimamente aumentata perché probabilmente questa quotava legger questa quotava 100 di sicuro questa quotava leggermente meno di 100 sempre per problemi che un semestre dura un po' di più dell'altro stessa cosa con questa che sta arrivando a 99 100 a questo punto scade lui deve liberarsene e ne compra questa che costa 100 anche lui fa il roll ma fa il roll solo quando arrivano a scadenza quindi 100 ecco qui si fa tutto il roll a un certo punto si trova un portafoglio che ha solo obbligazioni a 100 benissimo andiamo a confrontare i valori finali questo è il valore finale che è dato da valore del portafoglio che peraltro è sempre 700 e valore della liquidità che per lui sono le cedole incassate perché lui ha sempre venduto e comprato a 100 quindi 700 capite già subito che vince perché perché anche per l'altro sarà 700 perché anche l'altro ha tutte obbligazioni che quotano 100 in portafoglio ma l'altro ha dovuto usare la liquidità per comprare obbligazioni di nuovo tipo quindi 699 e 175 vediamo quell'altro anche lui 699 ma 172 quindi totale 872 e 16 totale di qua 875 e 14 rendimento 324 rendimento di qua 319 quindi mi spiace deludere ma l'etf obbligazionario non recupererà mai più rispetto alle obbligazioni a questo punto hanno lo stesso identico portafoglio ok vero che lui le tiene fino a scadenza però se i tassi non cambiano non cambia più nulla l'etf obbligazionario non recupererà più ci ha perso poco ci ha perso siamo a 319 qui 324 ci ha perso veramente poco però non è vero che recupera non recupera più se andiamo un po' più indietro però ad esempio se qualcuno volesse vendere tipo qui gennaio 2004 qui porta a caso un 2,44 netto anche se vedete vende delle cose sotto costo siamo a gennaio 2004 abbiamo detto ecco qui qui un 2,31 inoltre non dimentichiamo il vantaggio aggiuntivo di chi ha le obbligazioni singole che se per caso ha bisogno di una parte dei soldi vende quella che è a 100 o quella che è alla scadenza più vicina e quindi è quasi a 100 e non va in perdita mentre con l'etf obbligazionario il fondo obbligazionario dovete venderle uniformemente tutte anche quelle con scadenza lunga e quindi andate fortemente in perdita quindi alla fine uno la perdita non è così grave attenzione non è così grave in questo caso dove c'è stato un solo salto grosso ma c'è stato un solo salto due non è vera la storiella che recupera perlomeno a meno che io non abbia sbagliato i calcoli e se qualcuno ritiene che abbia sbagliato i calcoli non mi linki il video del fuffaguru che mostra roba senza fare i calcoli ma mi dica dove ho sbagliato abbiamo anche dei simpatici grafici questo è il grafico del valore proprio soldi ecco qui vedete le obbligazioni singole blu l'etf obbligazionario l'etf obbligazionario qui è il punto in cui perde le due le due linee non sono due rette sono due spezzate anche se non sembra sono due spezzate a un certo punto qui circa cambiano pendenza e questo mi ricorda per chi è vecchio come me mi ricorda le convergenze parallele cioè quello tra la democrazia cristiana e il partito comunista quando dovevano mettersi d'accordo non potevano dire al proprio elettorato che stavano andando d'accordo su qualcosa e quindi dicevano è una convergenza parallela quindi siamo sempre su due cose che non possono mai incontrarsi ma più o meno ci incontriamo questa è uguale a una convergenza parallela cioè qui diventa parallele le due righe non si incontreranno mai qui invece sono ben distanti quindi so che sembra che convergano ma non convergano perché sono spezzate hanno cambiato pendenza qui andiamo a vedere invece le percentuali più o meno simile il grafico ecco qui queste sono le percentuali di guadagno rispetto all'inizio quindi rispetto all'inizio entrambi grossa perdita perde di più l'indice l'indice perde di più perché ha già fatto un roll mentre l'obbligazione quindi l'obbligazione al momento ha una durata un po' più corta e poi vedete l'indice è vero che recupera 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 ma mi spiace questa è una convergenza parallela non recupererà mai del tutto adesso per par condicio andiamo a vedere esattamente il caso opposto il caso in cui il tasso cala qui vedete che ovviamente sarà esattamente l'opposto con una differenza importante però che se i tassi calano entrambi ci guadagnano le obbligazioni guadagnano meno e detto onestamente molte persone non io ma molte persone preferiscono perdere meno e guadagnare meno piuttosto che perdere di più e guadagnare di più quindi la scelta delle obbligazioni forse è migliore andiamo poi a modificare proprio allora qui metto 5 5 5 3 e poi prolongo il 3 per tutti gli altri ok stessa cosa qui per parcondicio 5 5 5 5 5 5 5 3 vedete com'è facile potete farlo anche voi invece di rompermi le scato dicendo eh ma non hai fatto vedere questo ovviamente qui le obbligazioni vanno peggio perché il fondo obbligazionario ci guadagna guardate che a questo punto il fondo obbligazionario 13% anche le obbligazioni guadagnano cos'è 9 12 si 12 però 12 13 andiamo a vedere i grafici ecco qui vedete il grafico è praticamente quasi speculare con la differenza che questo qui è tutto in su e quindi ok avete guadagnato meno ma molte persone preferiscono guadagnare meno piuttosto che andare in perdita la convergenza anche qui vi assicuro che è una convergenza parallela cioè non si incontreranno mai l'indice sarà sempre un pelo sopra andiamo a vedere proprio il numero l'indice qui a 3,94 le obbligazioni sono a 3,94 e l'indice a 4,01 tra l'altro è meno perde meno rispetto le obbligazioni perdo meno rispetto all'indice ma potrebbe essere anche dovuto al fatto che io scelgo semestrali e cose del genere andiamo a vedere così for fun altre situazioni ad esempio torniamo all'aumento 3 3 3 e poi qui invece di fare 5,5,5,5 facciamo che so un aumento lieve lieve quindi 3,2 sono due colonne per ogni anno quindi devo fare 3,2 3,2 poi questo più 0,2% sì ok arriva a 5,6 direi che ci siamo qui e anche qui vorrei fare delle obbligazioni analoghe uguale a quella di sopra più 0,2% ah il foglio delle il foglio obbligazioni prende gli stessi percentuali da questo foglio quindi non serve cambiare anche quello eccolo qui le mettiamo in percentuale ok andiamo a vedere i grafici direttamente ecco qui ovviamente con i tassi che continuano a abbassarsi l'indice continua a prendere legnate quindi in un periodo di tassi continuano a abbassare smettete di chiedermi compro i tf obbligazionari compro i tf obbligazionari se sei convinto che abbiano smesso i tassi di alzarsi scusate ho detto abbassarsi prima compro i tf obbligazionari se sei convinto che i tassi abbia smesso di alzarsi altrimenti vedete continua a prendere mazzate e queste sono due divergenze parallele ok e stessa cosa in rendimento qui l'aumento non è così drammatico cioè non arriva dal 3 al 5 quindi l'indice non fa in tempo andare negativo però vedete sta sempre sotto vistosamente sotto questo non è un caso drammatico per molti però abbiamo supposto soltanto un aumento del 2% al semestre quindi del mezzo punto all'anno quindi un aumento molto tranquillo ci perde quanto? ci perde un mezzo per cento all'anno eh all'anno ho letto un post fatto analisi fatto sul mercato americano che diceva che recupera entro due duration il post analizzava degli etf degli indici che hanno obbligazioni zero coupon penso che sia per risparmiarsi i calcoli perché io non ho fatto abbastanza fatica ogni volta a calcolarmi la cedola e ho dovuto fare l'ipotesi che non venga reinvestita ok quindi andiamo a vedere cosa succede comprando delle obbligazioni zero coupon il post proprio analizzava un caso del genere quindi tassi in salita costante andiamo a vedere qui obbligazioni zero coupon quindi mettiamo zero per cento ora non stupitevi se il patrimonio subito è bassino parte bassino perché sono zero coupon quotano tutte necessariamente sotto cento andiamo a vedere cosa succede se sono obbligazioni zero coupon tassi leggermente in crescita ecco qui peggio ancora vedete peggio ancora le obbligazioni mangiano completamente l'indice e anche qui si passa da si più di prima perché perché l'indice fa il roll prima delle obbligazioni normali eppure però questo roll non ha nessuna nuova cedola quindi fatica molto a compensare andiamo adesso a vedere l'obiezione che sicuramente mi avete sollevato faccio un super undo l'obiezione che mi avete sicuramente fatto all'inizio è perché qui non compro obbligazioni di tipo vecchio che rendono ancora il 3% così le paga meno benissimo facciamolo quindi 3% ecco qui l'etf obbligazionario compra il 3% quindi vende questa a 94 e compra questo 89 quindi ci sta guadagnando sostanzialmente ok vero ci sta guadagnando ma sta poi prendendo delle obbligazioni che rendono il 3% vediamo le differenze uguale anzi leggermente peggio per l'indice per chi mi ricorda erano molto più strette qui uguale leggermente peggio per l'indice leggermente peggio di fatti e questa invece è una cosa molto interessante e questa è un'obiezione che mi sta fatta ed è corretta se questi strumenti investono invece in obbligazioni high yield che sono quelle che danno alti tassi di interesse e sono quelle ovviamente che sono più rischiose quindi è il caso in cui bisogna usare un etf obbligazionario qui non si può rischiare di prendere obbligazioni che rendono il 10 anche 15% da soli dove poi te ne vanno in fallimento 2 e sei spacciato quindi facciamo obbligazioni che invece rendono tipo che so un 10% qui e poi col cambio dei tassi qui 12% quindi un indice high yield questo indice high yield quando avviene il cambio dei tassi ci perderà meno perché ci perderà meno perché qui si che le cedole si fanno sentire molto di più della variazione dei tassi guardate vedete non solo non solo ma vedete c'è il sorpasso surprise eccolo qui e perché avviene questo sorpasso perché è vero che il povero indice obbligazionario è costretto a vendere obbligazioni a 113 non stupitevi se portano così tanto e comprare nel 138 ma poi questi 10 e 12% gli compensano pesantemente mentre invece per le obbligazioni no questo non succede l'obbligazione aspetta sempre che arrivi a 100 e quindi in questo caso abbiamo il sorpasso quindi come possiamo concludere possiamo concludere dicendo che l'unica cosa vera è che se non riuscite a diversificare dovete comprare un etf obbligazionario e prendervi anche tutte le fregature quando si alzano i tassi e anche i grossi vantaggi quando si abbassano i tassi per il resto non c'è nient'altro vero non è vero che si recupera entro una o entro due duration l'altra cosa che sembra essere vera è che se l'etf obbligazionario investe in cose che danno cedole alte allora recupera non sappiamo dire quando perché questo dipende dalla duration dell'etf obbligazionario da come vanno i tassi da come vanno le cedole delle obbligazioni che compra perché abbiamo visto proprio che dipende anche pesantemente da come vanno le cedole delle obbligazioni che compra se le cedole delle obbligazioni che compra sono alte l'etf obbligazionario recupera stavolta recupera veramente se invece le cedole delle obbligazioni che compra sono in linea con i tassi di mercato non recupera mi sento di smentire con dei controesempi che ho appena fornito la narrativa che si recupera entro una due duration e mi raccomando recuperare se intende recuperare rispetto alle obbligazioni non recuperare rispetto allo zero perché se le metto sotto al materasso avevo lo zero ed ero tranquillo comunque ci sono dei casi in cui nonostante l'aumento dei tassi l'etf obbligazionario riesce addirittura a battere le obbligazioni e sono quelle in cui l'etf obbligazionario è high yield quindi d'ora in avanti per il high yield etf obbligazionario in altri casi per me le obbligazioni restano sempre delle cassaforti che vanno tenute e rivendute a 100 altrimenti state speculando sui tassi che è una cosa perfettamente legittima ma non è magari il sogno di ognuno di voi ciao alla prossima